Quale sarà il programma del Touri Sport? Diciamo che è un programma piuttosto intenso, è una tre giorni di full immersion nel mondo dello sport e a contatto con gli atleti e gli istruttori delle varie federazioni sportive. Ho detto varie, in realtà sono 46. È un risultato che abbiamo ottenuto grazie alla fattiva collaborazione del CONI regionale, alla partecipazione della regione, l'assessorato della pubblica istruzione, sport e spettacolo. È la 32esima edizione del Touri Sport. Dovremmo dire che è una manifestazione, una fiera vecchia, in realtà è la più giovane perché è dedicata soprattutto ai giovani, è dedicata al mondo della scuola dove vorremmo che la vicinanza allo sport non fosse solo così di semplice conoscenza ma di partecipazione attiva. E questo, insomma, è uno degli scopi che si prefigge il Touri Sport. Si parla di un'edizione rinnovata e ampliata. Quali saranno le novità? Beh, le novità sono soprattutto, lo dicevo prima, nella partecipazione di quasi tutte le federazioni della CONI da quelle più conosciute, tipo il calcio, pallacanestra, eccetera ma anche a quella della box taillandese, ad altre discipline sicuramente meno notte. Una novità che poi rappresenta anche una tradizione, la partecipazione dell'esercito, della polizia che nel mondo dello sport, insomma, qualcosa l'hanno sempre espressa e quindi anche qui saranno presenti degli atleti di fama nazionale e internazionale. Seguirà, abbiamo voluto anche un settore dedicato alla convegnistica ce ne saranno almeno due, io ne ricordo, molto importanti uno sull'alimentazione, sport e alimentazione indirizzato, dedicato soprattutto alle persone come me che lo frequentano o lo praticano in maniera alterna. Un altro convegno organizzato dal CONI è sulla impiantistica sportiva un problema credo che interessi un po' tutti i nostri comuni soprattutto in tempi di scarso investimento quindi si tratterà di riflettere, di vedere come però ogni comune ogni comunità insomma abbia la possibilità di esprimersi anche nel mondo dello sport. Che ruolo gioca lo sport come traino per l'economia? Ma io credo che sia importantissimo non entro nel merito delle questioni che riguardano le grandi manifestazioni sportive però credo che vi sia un indotto notevolissimo perché attorno al mondo dello sport, attorno all'agonismo puro ruota tutta un'altra serie di attività pensiamo solamente alle tute, alle scarpe, alle attrezzature che credo sia di grandissimo rilievo di importanza. Ecco ricordiamo gli appuntamenti venerdì, sabato e domenica a partire dalle ore 10 quale evento consiglia assolutamente di non perdere? Ma io direi li consiglio tutti perché basta entrare nel padiglione E che è quello che raccoglie insomma la stragrande maggioranza delle federazioni sportive lì c'è la possibilità anche dell'approccio diretto dicevo con gli atleti per il tour e sport non posso certo dimenticare l'evoluzione delle macchine, delle motociclette insomma noi stiamo assistendo alla predisposizione delle macchine che poi utilizzeranno gli stuntmen questo è un appuntamento che vorrei ricordare ma credo che non ce ne sia bisogno perché il tour e sport è anche questo un'altra cosa che vorrei ricordare è che da piazza Ienne tutti i giorni dalle 10 alle ore 18 partiranno dei pullman i famosi pullman rossi scoperti chi vorrà venire in fiera potrà farlo anche con questi mezzi grazie alla disponibilità del CTM l'appuntamento con la 32esima edizione del tour e sport è quindi previsto per domani mattina alle ore 10 e 30 con la cerimonia di apertura l'alza bandiera e l'esecuzione dell'inno nazionale per celebrare i 150 anni dell'unità d'Italia a seguire un ricco programma sportivo e l'incontro con i giovani delle scuole a seguire un ricco programma sportivo